dalla cucina di Attilio, Chef Attilio e Chef Giuseppe. Questa sera cosa facciamo Chef? Il timarissù. Per il timarissù che cosa ci vuole? Ci vuole il mascarpone, poi le uova, il caffè e lo zucchero e le ciotole. Separiamo il rosso dal bianco delle uova, poi uniamo il tutto, bagniamo i savoialdi nel caffè e ci mettiamo la crema sopra, ok? Ciao a tutti salutiamo e noi ci mettiamo all'opera, tutte intere qua dentro, facciamo così, vai questa è rotta, aprile e farla cadere, così, andiamo a prendere i rossi e li prendiamo così con le mani, piano piano senza farli rompere, guarda così Giuseppe, fai? Bellissimo, senza farlo rompere, piano piano fai uscire tutto il bianco nell'altra ciotola, perfetto fai uno, conta tu eh? Due, tre, quattro, un altro poco poco e cinque, perfetto, ok? E tu cominci ad amalgamare tutto, come va il cappello? Chef, saluta il pubblico, ciao pubblico, ciao musica, lo dobbiamo fare tutto, tutto, questo qua deve essere messo tutto là dentro, aiutati con il cucchiaio perché da solo così non ce la farai, provaci, e la mettiamo qua dentro, aspetta che te lo tengo io e tu lo prendi, vai, aiutati con il dito, prendiamolo che è buono, la velocità minima, vai, facciamo insieme? Sì, perché è pesante, ti aiuto io, guardate che bella crema, guardate un po' che bella crema che abbiamo fatto eh? Adesso uniamo il tutto, ho fatto anche questo qua, ora uniamo il tutto, ok, andiamo, la chiara d'uovo, questo qua, mischia tutto, adesso qua dentro, piano piano, come bisogna fare? Piano piano, così viene più gustoso, e la mischia ancora ancora più bella, sì? Sì, sì, io dico che può andare, me l'avevo detto, com'è? Qual è? Buonissima, a prova di chef, ok, ci sei? Vieni, mettiti in piedi, schiaccia un poco, basta così, schiaccia di nuovo qua, bravo, vai, Simo, aspetta che lo giro un po', prendiamo un altro di bicchiere, sì, vai, un po' più forte, schiaccia, bravissimo, nell'altro di bicchiere, come, come, una romana, vai, ok, un po' più piccolo quello là, questo mettilo già nel latte, qua, intero, perfetto, pure l'altro, dividilo, metà in età, ok, giralo un po' nel latte, capovolgilo, bravissimo, anche questi qua, capovolgilo, anche l'altro, ok, e adesso li metti nel bicchiere, così, vai, va bene, facciamo due al latte, ok, stessa operazione, lo capovolgi, e lo metti dentro il bicchiere, vai, ciuffettini, ok, basta qua, facciamo quest'altro, e ora, alla fine, sai che come si fa, quando non abbiamo più voglia di fare altre dimensioni, si, apri un po' la bocca, com'è, guarda, vediamo un po' pure a mamma, si, vai, vediamo, dice mamma, vieni qua, vieni qua, vieni qua, ok, ok, aiuto, aiuto, abbiamo fatto due, quattro, cinque tirami su, al caffè e due al latte, salutiamo il nostro pubblico, ciao, ciao, alla prossima, ora cosa facciamo con questo? ora mettiamo via, puliamo tutti, li mette tutto, li mettiamo nel frigo,